Pensiero del giorno. Intendo restare ottimista riguardo a me stesso e alle mie relazioni. Posso essere contemporaneamente sia onesto sia positivo. Per me è sicuro essere felice e questo atteggiamento mi mantiene sano e pieno di energia. Resta ottimista. La cosa più utile che puoi fare di fronte alle avversità è mantenere un atteggiamento positivo. C'è sempre un tesoro nascosto in ogni circostanza anche se non riesci a trovarlo subito. Continuando ad avere fiducia puoi elevare ogni persona che ti circonda insieme alla situazione stessa. Un atteggiamento positivo mantiene il corpo rilassato cosa che a sua volta ti aiuta a pensare in modo chiaro e creativo anche nelle situazioni più intense. La tua mentalità positiva ispira gli altri e potrebbe prevenire un ciclo di energia discendente. Oggi prometti di restare ottimista in ogni caso. Sii sempre onesto riguardo i tuoi pensieri e sentimenti e invoca noi angeli e il tuo io superiore per avere la miglior prospettiva su ogni situazione. In questo modo superi in fretta le emozioni negative mantenendo un alto livello di energia e un atteggiamento positivo.